Allora, facciamo così, Doremi. Oggi, registri tu, va bene? In bocca al lupo. E siamo tutti ragazzi, sono Mastro Lindo e bentornati su Infarti Simulator. Eh già, vabbè ragazzi, ben ritornati ovviamente su FNAF Gioco VR. Oh, non c'è il tifio. Siamo ritornati su FNAF VR perché abbiamo completato tutto, praticamente tutto, della Normal Mode. Perché c'è anche la Nacmer Bot. Che bellezza. Infatti il gioco non è finito qua, io spero di sì. Per completare tutto il gioco e fare il finale dobbiamo anche fare le Hard Mode. Perciò oggi andremo a fare tutte le notti 5 di FNAF 1, 2 e 3. Beh, a sto punto direi di iniziare. Però iniziamo con, diciamo, il più complicato. La notte 5 di FNAF 3. Ti prego, aiutami, helpi. Non sono mai pronto, però andiamo. Notte 5. Ok, notte 5. Attenzione. Questa è molto più difficile. Intanto va tutta a fuoco perché ovviamente è una notte 5. Il letizio guardava notturno quello che è, ma andava tutta a fuoco per distruggere Springtrap. Che poi alla fine si è scoperto che non è mai morto questo. Questo è mortale, signori, questo è mortale. Devo stare molto attento ai Phantom. Di già, di già, ragazzi, non è possibile, di già. Cosa devo fare? Non riesco a vedere. Ah, Phantom! Torna qua. Primo spavento! Non è giusto. Dannazione. Springtrap. Ma che è successo? Due secondi s'ho durato, com'è possibile sta cosa? Qualcosa è andato scorto. Devo riuscire a capire Springtrap da dove parte. Di solito parte di qua, ma lui non c'è. Ascoltami, Sp... Muori, muori, muori! Ho stato rompendo! Dico io, fatemi durare almeno un'ora, per pietà. Devo capire da che punto parte Springtrap. Chiama, chiama Springtrap. Springtrap. Anche se non c'è nulla. Ok, cambia. Non è giusto. Comunque lo sento, comunque lo sento. Lo sento. Non c'è, non c'è. Qua non c'è, più o meno. Ragazzi, altri Phantom! Phantom su Phantom! Vieni qua, Springtrap! E certo, audio error. Ma che credi? Che io riesca a vincere questo gioco subito? L'una del mattino. Almeno la prima ora l'abbiamo fatta. Eccolo, l'ho chiamato! Sì, rimani là! Non ti devo perdere d'occhio! Rimani là! Sparito, lo richiamo. Ventilazione. Pace bene, fratelli, però... Ritorna da dove sei venuto. Oh, che figo! L'animazione quando ritorna! No, vabbè. Se riesco a tenerlo questa telecamera, di sto passo ce la posso fare. Dai, 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 dai! Non mi sembra giusto questo. Grazie Springtrap per essere rimasto là. 3 del mattino. Ma io l'ho sempre detto. Tu senza Phantom non sai fare nulla! Che se la frega del video error, basta che mi funzioni l'audio. Niente. Ti ho bloccato. Sei un limbo infernale. Nessuno può contro il ninja di Fluff. Posso sopravvivere ancora un'altra ora. Allora, se riesco a completare stanotte, giuro me l'aspettavo più difficile. Me l'aspettavo più difficile, raga. Però ci siamo. 5 del mattino. Mancano pochi minuti. Sì! Altro che FNAF 3! La notte più difficile! Io sono il ninja! Uh, ma ha le mani rosse. Cioè, questa era la notte 5 di FNAF 3? E me? Vai, 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 vai! Che è sto lag? Wow! Sei bellissimo! A te non ti mangio. Continuo. Ma sbaglio? Dovevo trovare delle cassette. Notte 5 di FNAF 3 completata. Andiamo con la notte di FNAF 1. Non vado con la 2 perché... Ma quello è bruttissimo! Ma perché è tutto bianco e nero? Vabbè, chi se ne frega, telecamera 1 c... Devo sentire... Ok, questo fa paura! Cosa? Cos'è? C'è qualcosa che non va... Ah! Ah, questo! Ah, non c'entra niente! Allora perché mi sono chiuso come un deficiente? Trova monete, mi dissero! Sarà facile, mi dici! Ma che è stato? Un fantasma! Hai fatto un posto per farmi spiegare energia! Questa è una nuova dinamica di gioco! Di già freddi! E chi lo vuole, freddi? Vai! Tu corri! Grazie, è stato bello! Conoscerti! Mi state facendo venire un infarto a tempo record voi tre! Due del mattino 60%! Come ce la faccio io? Devo sperare... Oh, che stai dicendo? Ma che dici? Ma ci sono i fantassi! Tu sei cheat, Bonnie! Tu sei cheat! Mi scusi, ma... Ci sono monete qua? No, è per chiedere! Niente? Vabbè, dai! Allora, qua chiudo, qua chiudo... Faccio partire lui... Ok... Oh, per me l'importante è che i fantasmi non mi aprono le porte! Poi potete fare quello che volete! Per esempio te! Cioè, freddi, freddi! Non avvicinarti nel frattempo! Rimani così! Ma che è stato? Oh! Aspettete! 64% d'ora il mattino! Eh! Dicevo che ci siamo quasi! Ma tu vattene! Ora sono stufo! Completiamo sta dannata notte! Ora o mai più! Sto rimanendo fermo per recuperare un pochino di energia! Ma tanto non serve a nulla! Perché tanto il monitor non va a spiegare energia! Quello che va a spiegare energia sono sti due deficienti che mi attivano le luci! La prima che arriva è Chica! E poi Foxy! Tutte e due insieme! Ok! Ed è due! Ok! Chica, vattene! Non mi piace il bianco e nero! Grazie! Ma Bonnie, poi non mi sta attaccando! Ok! Ecco! Dobbiamo arrivare adesso alle 5 del mattino! Adesso! Tanto freddi si sa! Rimane là! Arriva e rimane là! 5 del mattino ora! Devo resistere il 15% Cioè, devo resistere! Ho un attacco di Foxy! Che arriva sempre all'ultimo! La percentuale qua scarseggia! 2 1% È stato un piacere! Sìììììì! L'ho fatta! L'ho fatta! Non pensavo di farcela! Vai il regalo! A tu sa forza! Sapevo! Continua! Non ho tenuto più di continuare sta roba malata! Tanto non ho trovato cassette! Non c'erano cassette! Completiamo a sto punto anche la lotta di FF2 a caso dai! Due secondi ci impiego! Forza! Ormai di casa siamo, vero? Tanto non abbiamo problemi di power! Ok! Iniziamo a ricaricare! Non ci sono né anima granks a destra né a sinistra! E arriva freddi! Toi freddi! Eh già! Devo... Mi avete detto, signori, che non ci sono i Withered qua! L'una del mattino! Non so perché non li abbiamo messi, Scott! Mi sembra quanto strano! Amico mio, due del mattino! Eccolo! Ok! C'è pure Mangol! Ma noi richiediamo! Ok! Mettiti questa! Fallon lo se ne va! Due freddi è sparito! Mi ha ascoltato! Mi è andato a giocare a Fortnite! Perché non mi ha fatto l'attacco? Ci siamo, signori! Ci siamo! Quasi cinque del mattino! C'è praticamente l'ho finita a primo colpo! E' che è finita! Porca miseria! E tu che ci fai qua? Vengol! Dai che ce la faccio! Forza! Poni! Eccolo! Sì! 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 È un primo colpo! Ragazzi! Sto morendo! Dannazione! Un po' di aria! Ti prego! Direi di vederci al prossimo video! Ok! Aia! Ok ragazzi! Io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto! Strano che non abbiamo trovato né monete né cassette! Ma mi rifarò nella prossima puntata! Mi raccomando! Iscrivete al canale! Se non l'avete ancora fatto! Lecite tantissimi pollicioni in su! Per il prossimo episodio di FNAF Infarti Simulator! E seguitemi pure su Instagram! Qua dal vostro Lorentzis! E dalla maglietta del copyright! È tutto! E noi ci rivediamo ad un prossimo video! E... Ciao! 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 Ciao!